Oggi prepariamo i migliaccelli o scagliozzi, una ricetta tipica della tradizione partenopea per il periodo di carnevale. In una pentola mettiamo a bollire mezzo litro di acqua, un cucchiaio di sugna e una macinata di pepe. Nel frattempo ci tagliamo a dadini cicoli e salame. Quando bolle caliamo 200 g di farina per polenta, aggiungiamo un po' di sale, mescoliamo e lasciamo cuocere. Lasciate cuocere finché non si assorbirà tutta l'acqua. Ci vorranno solo pochi minuti, quando si è addensata caliamo il nostro ripieno, il pecorino, mescoliamo, spegniamo la fiamma e lasciamo un po' inchiepidire prima di formare i nostri migliaccelli. Prendiamo una piccola parte di impasto, formiamo prima una pallina e poi la piattiamo. Lasciamoli riposare in frigo per una ventina di minuti. Olio caldo andiamo a friggere. Eccoli pronti, assaggiamo! Lui c'è questo! Grazie.